ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video oggi un video in collaborazione con bibi craft che mi ha gentilmente inviato questi prodotti vi lascio comunque sia nell'info box tutti i link utili sia il collegamento al loro sito che al loro programma per youtuber e poi anche il link diretto a tutti i prodotti che sono arrivati a me bibi craft per chi non lo conoscesse un sito per diciamo per creativi offre una varietà di prodotti immensa da tutte le cose ad esempio accessori per chi fa orecchini collane bracciali o anche per chi fa scrapbooking come vedrete da quelle cose che ho ordinato io e anche che ne so ad esempio oggetti in resina è un sito vastissimo è veramente veramente bello se voi siete appassionati del fai da te o comunque sia di questi lavoretti dateci un'occhiata perché ha prezzi davvero imbattibili e comunque sia offre una grande varietà di prodotti e niente quindi ora passiamo direttamente a quello che è arrivato a me io ho già un po aperto perché è tutto arriva in una bustina come quelle ad esempio di aliexpress di quelle bustine trasparenti non in scatola e poi è tutto super imballato con queste bolle ok qua vi arriva il foglietto con il vostro ordine e poi vediamo a cosa ho preso io veniamo a cosa ho preso io io ho preso questi pennarelli vediamo poi apriamo eccoli qua bellissimi eccoli qua che sono dei pennarelli metallici poi vedremo come utilizzeremo qualche idea ma si possono usare per tutto sono molto molto belli magari possiamo vedere i colori da insieme così se siete curiose allora c'è questo argento bello poi c'è un celeste che è un po' scuro più scuro poi c'è un oro questo è un argento più scuro il primo forse è più un perlato ma questo è più nero sembra questo forse più perlato e infatti sul bianco non si nota tanto poi c'è un verde un po' scuro un lilla ho scritto sul bianco sì bravo un verde un po' più chiaro questo non fa lo scatto un rosa e infine sembra un rame diciamo eccoli qua non so se dal video si vede ecco qua vedete sono metallici belli devo dire veramente molto molto belli vedete l'effetto che hanno molto belli magari utilizzati che ne so su un cartoncino nero bellissimi poi veniamo cos'altro preso io ricordo che loro mi hanno gentilmente omaggiato di questi prodotti ecco qua il pezzo forte veniamo prima a questo ho ordinato questi dischetti di sughero da una parte hanno il sughero e dall'altra parte come vedete sono e dall'altra parte sono adesivi e poi vedremo di farci qualche lavoretto questi si possono sfruttare per tante cose vedremo poi nei prossimi video infine questi questo praticamente è un set di clear stamp chi è appassionato di scrapbook saprà già che cos'è questa è una tavoletta in acrilico come vedete questa è una tavoletta in acrilico che è una lastra spessa dove va appiccicato lo stampino in silicone per poi andare a stampare sul foglio avrei voluto prendere anche la tavoletta proprio per il clear stamp ma purtroppo era sold out peccato alla prossima e poi ho ordinato questi quattro stampi diversi ve li faccio vedere si utilizzano da questo lato ma vi faccio vedere dal lato del disegno allora qua ci sono tutte queste immagini molto molto carine dessert, bake, breakfast, le faccine, i dolcetti, i cupcake, il carrello della spesa molto bellina poi qua abbiamo tutti i mesi dell'anno con i numeri e questa griglia con i quadrati poi qua abbiamo le lettere dell'alfabeto i numeri con questi uccellini questi decori troppo bellini anche questi e infine abbiamo questo dove ci sono la visione mensile del mese del calendario poi qua abbiamo tutti i giorni della settimana con delle linee a fianco poi abbiamo qualche immagine qua e qua abbiamo varie diciamo combinazioni di calendari mensili partendo dalla settimana sia dalla domenica oppure dal lunedì e niente io vi faccio vedere più da vicino allora sono uno, è questo qua ecco qua poi c'è questo queste lettere sono davvero carine poi c'è questo con i mesi e infine questo veramente veramente bellini e niente a breve vi farò vedere come utilizzerò tutte queste cose che mi sono arrivate magari dividerò le cose in due video separati quindi non perdetevi i prossimi video e infatti vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella così sarete sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno sul canale io ringrazio ancora di cuore il sito il sito babycraft che mi ha dato questa opportunità e ringrazio anche tutti voi che mi seguite con affetto e anche se sono solo all'inizio del mio canale vedo che comunque sia ci sono tante persone che mi seguono e che pian piano stiamo creando la nostra community quindi sono molto felice di questo e niente ragazzi vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao